In attesa che ripartano le competizioni motoristiche e il mercato sia della Formula 1 che in questo caso della MotoGP ci viene compagnia sul canale sportivo e dunque parliamo della mia scuderia preferita in MotoGP e approfondiamo la notizia di mercato ormai ufficiale la notizia è per la verità di ieri ma ne parlo stamattina, voi vedrete il video alle 13 come tutti i video pomeridiani del mio canale Jack Miller è il nuovo pilota della Ducati ufficiale a partire dalla stagione 2021 e dunque si va ancora una volta a conservare quella che è la tradizione in Ducati di piloti australiani sulla moto italiana Jack Miller passa dunque da Ducati Pramac quindi il team clienti al team ufficiale una scelta che andrà a premiare il ragazzo qui inquadrato, ragazzo classe 95 a un anno in meno di me con il team ufficiale dopo aver vinto una gara sola in MotoGP e sei in Moto3 per quanto riguarda il contratto che ha dato la Ducati a Petrucci lo vediamo qui grazie all'articolo della Gazzetta dello Sport un anno di contratto per il pilota australiano più un'opzione che potrà essere esercitata, un'opzione squadra da un milione di euro e quindi già la Ducati si muove con un pilota giovane e di prospettiva dal momento che Miller per quanto riguarda i risultati dell'anno scorso ovviamente poi andiamo del 2019 ha dimostrato a tratti di essere anche più veloce di alcuni Ducati ufficiali che facevano fatica in particolare quella di Petrucci ma anche quella del mio pupillo Andrea Dovizioso e quindi adesso ci diamo una domanda e ci interroghiamo su quale potrebbe essere il futuro di uno dei due piloti attualmente sotto contratto con la Ducati la domanda dunque è chi tra Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci dovrà essere sacrificato in favore di questo approdo ufficiale di Jack Miller in Ducati le voci più accreditate danno Danilo Petrucci in uscita dalla Ducati con un Andrea Dovizioso che dovrebbe rimanere ancora una volta Dovizioso è in discussione nonostante si sia ritrovato a lottare tra virgolette per il titolo del mondo anche se con questo Mark Marquez a lottare per il titolo del mondo è oggettivamente un miracolo comunque arrivare secondo, tre volte di fila non è da tutti, va detto che c'è un Marquez totalmente ingiocabile però Dovizioso si è messo dietro sempre quasi tutta la concorrenza a volte sfruttando una moto che gli permetteva di vincere su piste favorevolissime alla Ducati per esempio l'Austria, per esempio il Qatar e di fronte abbiamo invece un Danilo Petrucci che nel primo anno di Ducati ufficiale ha vinto una gara splendida al Mugello, una sprint proprio con lo stesso Dovizioso e Petrucci poi una volta che è stato confermato per il 2020 effettivamente Petrucci nel 2019 si è un pochino spento è veramente brutto essere onesto, diciamo basarsi sui risultati dell'anno scorso per confermare un pilota o rinnovare il contratto per un pilota del 2021 va detto però che appunto l'emergenza sanitaria che sta arrivando ed è arrivata per il Covid effettivamente ha dovuto slittare un attimo i tempi e dunque bisogna fare un investimento più che basarsi sui risultati e dunque a questo punto uno tra Petrucci e Dovizioso dovrà andare via mentre siamo tornati sulla foto di Jack Miller che è il protagonista assoluto di questa notizia e di questo rinnovo di contratto il pilota perché è stato ad andare via dopo questo approdo di Jack Miller e in Ducati dovrebbe essere Danilo Petrucci si parla di superbike sempre con Ducati per il pilota Umbro e non sarebbe una scelta così malvagia perché secondo me Petrucci al netto dei risultati che non sono arrivati a un pilota sicuramente di valore non è più giovanissimo perché andremo oltre le 30 primavere però un pilota in superbike considerato anche il momento di difficoltà che dall'altra parte sta avendo Chas Davis potrebbe essere secondo me interessante avere un Petrucci in superbike al fianco ovviamente di Redding che è il pilota con cui la scuderia di Borgo Panigale punterà per vincere il titolo chissà se questo del 2020 si esicorerà probabilmente quello del 2021 per battere il cannibale Jonathan Ray su Dovizioso anche qui c'è una voce di mercato si parla addirittura di KTM il che la vedo abbastanza improbabile più che altro perché KTM come sistema come farm system per usare un termine degli sport americani ha sempre valorizzato i propri piloti il pilota di punte evidentemente è il numero 44 Polizio Espargarò e gli altri piloti sono comunque appunto tutti rider della cantera del vivaio KTM i vari Brad Binder i vari Miguel Oliveira insomma non è gente che lascerebbe volentieri il posto in KTM presumo si parli ovviamente di KTM ufficiale anche perché vedere Dovizioso in KTM clienti sarebbe probabilmente un downgrade della carriera va detto che anche in questo caso Dovizioso non è più giovanissimo però nella carriera ha dimostrato sicuramente molto di più di Danilo Petrucci e un po' mi dispiace anche da tifoso della Ducati e soprattutto di Dovizioso che il buon Andrea debba essere sempre messo in discussione nonostante i risultati abbiano spesso parlato per lui è un pilota che ha anche battuto Marquez in volata in occasioni sporadiche in Austria 2017-2019 quindi di certo è dimostrazione che non è un pilota fermo certo non è un pilota aggressivo Dovizioso è un pilota più calcolatore è un pilota che ragiona di più, guida molto pulito in alcuni tratti è più un piazzato che un vincente va detto che è comunque il terzo italiano per numero di vittorie in categoria moto mondiale sono solo 14 le vittorie in carriera per Dovizioso nel moto mondiale però tutto sommato è tutto fuori che è un pilota fermo dipende anche in questo caso se Dovizioso accetterà le proposte della Ducati se potrebbe essere downgradato se così si può dire a seconda guida con un Jack Miller sugli scuidi al momento che ballano tanti anni di differenza vi ricordo che il pilota australiano qui inquadrato a un anno in meno di me è un classe 1995 e dunque la Ducati va a premiare Jack Miller e va a investire sul futuro prendendo un pilota giovane e come diceva all'inizio del video si va a reinstaurare quella che è la tradizione del pilota australiano ora non sto qui a dire che Miller sarà come Stoner perché come Stoner veramente ce ne passa di acqua sotto i ponti l'altro australiano in moto italiano in questo caso Ducati fu Troy Bayliss che fece quello che fece sia in Superbike che vinse tre titoli sia in MotoGP che vinse la gara leggendaria di Valencia è comunque una scelta che ci sta sia per l'età del pilota sia per il talento che man mano Miller si è costruito a dispetto di tantissime voci che lo vedevano come un pilota molto irruento che non si capiva inizialmente perché fosse lì vi ricordo che Jack Miller ha fatto il doppio salto dalla Moto3 alla MotoGP salto che non si vede praticamente mai se non in casi veramente eccezionali Jack Miller tra l'altro fece in tempo a vincere una gara sotto il diluvio universale ad Assen nel 2016 se non sbaglio con una onda privata era l'onda dell'allora team Mark VDS che adesso in MotoGP non corre più dimostrandosi come tutti i grandi australiani un mago della pioggia come i suoi connazionali Anthony West in Moto2 lo stesso Chris Vermeulen sempre in MotoGP con Suzuki insomma Miller è un mago della pioggia si è poi messo a posto con la testa è un talento che a me piace tantissimo e sono contento di vederlo in Ducati la mia copia preferita ovviamente neanche a dirlo sarebbe Miller dovizioso con un Petrucci secondo me in Superbike per concludere degnamente una carriera che vedrebbe tra l'altro Petrucci al ritorno all'ovile perché appunto il pilota Umbro ha fatto tutta la carriera nelle derivate della serie ha vinto anche dei titoli in Super Sport se non sbaglio poi è passato in MotoGP con delle moto inguardabili fino ad arrivare in Pramac e arrivare in Ducati Ufficiale per Danilo è stato sicuramente il coronamento della carriera però secondo me è giusto fare spazio a Miller affiancato al più veterano e più talentuoso di Danilo Petrucci con tutto il bene per Danilo andrà dovizioso voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa scelta se secondo voi è una scelta corretta se vedete bene Miller in Ducati io personalmente sì è un pilota molto futuribile non so se possa arrivare a vincere il titolo ma evidentemente Ducati vuole provare a vincere il titolo con il pilota australiano cercando di combattere con l'ingiocabile Marquez e chissà anche Quartalore Vignales insomma la linea giovane sta prendendo piede non solo in Formula 1 ma anche in MotoGP per il futuro il saluto da parte di Matthew Thorgard vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto in descrizione trovate sia il primo canale quello musicale dove tra l'altro uscirà un video anche nella giornata di oggi e anche la pagina Facebook se volete sempre rimanere aggiornati ci vediamo presto a un prossimo video sperando di parlare di sport giocato